Volete un motivo per vedere la nuova edizione di X-Factor? Io ve ne do dieci. E mi sono limitato. Per anni la TV ha inseguito quello che succedeva nel mercato e quello che succedeva nel mondo. Abbiamo una grande occasione, noi quest'anno, già l'anno scorso è stato così, di rappresentare qualcosa prima ancora che esploda. È stato un rischio l'anno scorso, aprendo anche a inediti, abbiamo anche detto al pubblico a casa che questa è una cosa che non è stata lavorata da un sacco di professionisti prima che voi la sentite, che è una finestra abbastanza rara di avere, però comunque fa parte, secondo me, di una delle forze di questo programma. Quando si innesca un cambiamento, poi tutto ciò che ruota intorno a quel cambiamento cambia. Portare sul palco anche generi che venivano un po' magari ghettizzati proprio anche dalla televisione stessa, fa bene alla musica ma fa bene alla televisione perché non è detto che questo non avvicini ancora un pubblico ancora più vasto e più ideologeno rispetto alla musica e alla televisione stessa. Sta cambiando la TV, sta cambiando la percezione della musica, la tecnologia fa dei passi da gigante e quindi anche il consumo di quello che è la musica, sia visiva appunto in TV o radiofonica o discografica, sta facendo dei passi da gigante. Grazie a tutti.